Produzione biologica, questo il tema principale dell'incontro organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori insieme alla Anabio presso la sede della Camera di Commercio di Cantinella Corigliano Calabro. La domanda del biologico italiano è, si parla di un 400% superiore alla produzione che noi abbiamo. C'è stato sicuramente un momento di moda quando si diceva che il biologico si consumava solo nei centri benestanti, nelle città benestanti. Io abito nelle Marche e vedo chi sono i produttori e chi sono i consumatori biologici. Sono persone che pensano a cosa acquistano, che leggono le etichette, che sanno che comperano un processo prima che un prodotto, un processo che coinvolge tutta una sfera di attività. La Calabria, come dicevo prima, è una delle regioni più importanti a livello nazionale come produzione di biologico. Abbiamo il 32% della SAU calabrese biologico che dipesa anche dalla sua olografia. Ma anche tante aziende della pianura si stanno rivolgendo a questa attività perché può creare un valore aggiunto sul prodotto. Trova meno concorrenza sui mercati sia nazionali che europei perché c'è questa propensione del consumatore a consumare prodotti di cui è sicuro che c'è una certificazione. Noi stasera vogliamo parlare di strategie commerciali insieme alla nostra associazione nazionale Anabio, insieme a loro ragionare di strategie commerciali, anche rete di imprese, di panieri di prodotto, per poter meglio confrontarci con i mercati europei, con i mercati anche nazionali che, come dicevo, aumenta l'incidenza di richiesta di prodotto biologico.